Oggi per il decimo giorno del tour dei diritti della rete degli studenti medi e dell'Unione degli Universitari ci troviamo all'Aquila. Oggi parleremo di menze, di residenze universitarie, della Campomizi e di come l'assenza di questi diritti possa essere il vero grande problema per una generazione di studenti e di lavoratori.